Si sono riuniti intorno ad un tavolo per capire dove sta andando l'ospedale di Branca. Erano stamani gli amministratori dell'Eugubino Gualdese, convocati a Gualdotadino dal sindaco Roberto Morroni. Con lui il primo cittadino di Scheggia, Giovanni Nardi, il vice sindaco di Sigillo, Armando Cervini e l'assessore ai servizi sociali di Fossato di Vico, Luigina Mirabassi. Assente, per progressi impegni, il commissario di Gubbio, D'Alessandro. L'urgenza del tavolo nasce dalla prossima ristrutturazione dei presidi sanitari che la regione sta predisponendo. A Branca il timore è che vengano meno i servizi e non vengano mantenute le promesse fatte. Naturalmente la posizione delle amministrazioni locali di questo territorio è quella di una difesa della struttura di Gubbio e Gualdotadino perché questo ospedale, frutto di una scelta molto importante, qual è stata quella della chiusura dei due ospedali di Gualdo e di Gubbio, è una scelta che si accompagnava a delle aspettative, a delle volontà ben precise che dovevano, come dire, testimoniare un innalzamento e una qualificazione dell'offerta sanitaria in questo territorio importante e anche sotto il profilo della popolazione servita abbastanza consistente. Pertanto questa è la linea che intendiamo portare avanti anche alla luce delle politiche di razionalizzazione che la regione dell'Umbria ha annunciato. Sul tavolo dei sindaci il documento inviato dalla CIS la funzione pubblica ai primi cittadini del comprensorio come partiti politici della regione, un documento che resta per il momento riservato ma che evidenzierebbe criticità per vari reparti. In primis l'ortopedia che sarebbe passata nel giro di pochi anni da un bilancio positivo ad un passivo dovuta alla perdita di professionalità che sono andate a lavorare altrove portando con loro pazienti affezionati ai loro legati. Quindi l'urologia per la quale si aprirebbe l'ipotesi di una delocalizzazione dell'attività chirurgica la rianimazione ancora priva di primario, l'emodinamica che doveva passare da 1 a 5 giorni settimanali di prestazioni il centro ictus che attende il terzo medico inorganico. Partendo da queste problematiche il tavolo dei sindaci odierno stilerà un documento ufficiale da inviare al direttore generale dell'ASL per far sentire la sua voce a difesa di un presidio nato con aspettative oggi, dicono i sindaci, non appieno rispettate.